Caro Enzo, un saluto a te e a tutti i delegati. Un abbraccio a Riccardo, a Pia. È evidente dopo gli interventi anche di Bruno, ultimo, ma anche di Stefania e di Rosato, che hanno discusso e affrontato temi di carattere generale, non li affronto, ma voglio parlare di alcune cose che ci riguardano, che riguardano noi e che tu hai posto. Tu hai fatto una relazione molto completa, io devo dire che condivido gran parte della tua riflessione, anche un po' della declinazione delle priorità. Poi ci sono chiaramente delle differenze, ma le differenze le avevamo pure insieme in un unico partito. Quando eravamo nel Partito Socialista non è che avevamo tutti la stessa idea, ci confrontavamo all'interno, facevamo le emozioni, discutavamo e quindi abbiamo delle differenze su alcune impostazioni. Però per parlare di noi, la cosa che mi fa piacere è un po' ricordare alcuni elementi che tu hai posto. Allora, io ho partecipato qualche giorno fa, tra l'altro proprio a Salerno, a presentazione di un libro del Presidente della Fondazione Enaudi, Benedetto, credo che sia il suicidio della democrazia, nella quale pone il tema del debolimento del sistema politico e dei partiti, come tu hai ricordato, e della debolezza della politica nel momento in cui si decise di abdigare alla difesa dell'articolo 68, che era quello sulla autorizzazione a procedere. Vi ricordate che in quegli anni, nel 92-94, il Parlamento era diventato un tribunale, con Riccardo ce lo ricordiamo, c'è Mauro qui. I processi non si facevano nei tribunali, ma si facevano nella commissione autorizzazione a procedere. E devo dire, quel Parlamento fu messo nelle condizioni di dover abbedicare, di dover scegliere, di togliere delle garanzie costituzionali che, devo dire, i costituenti avevano inserito come punto di riferimento del valore anche della difesa della politica e delle democrazie e della democrazia parlamentare. Io poi sono, su questi aspetti che poi possiamo discutere. Io ho ricordato in quel momento a Benedetto, guarda che io ho l'impressione, o meglio la mia impressione, che invece il tema vero della debolezza della politica è stata dentro l'autopolitica, dentro il sistema elettorale, quando fu deciso dagli elettori, attraverso il referendum, di inserire la preferenza unica. Vi ricordate la battaglia che fece Segni? E devo dire allora, Craxi la vide giusta quando disse forse quel termine in quel momento, perché lì iniziò l'antipolitica. Craxi allora era il politico con la P maiuscola, era forse in quel momento il politico più forte della nostra nazione. Per attaccare la politica, per attaccare Craxi, Segni e Beragione, e questo populismo strisciante portò tanta gente a votare il referendum perché colpì la volita, ma non capì che cosa significava la preferenza unica. Allora la preferenza unica che cosa ha generato? Una degenerazione del sistema dei partiti. Io faccio un esempio, nella mia città, Napoli, eravamo due correnti, sostanzialmente, la corrente più di sinistra e quella più riformista, dopo la preferenza unica, subito dopo, il referendum della preferenza unica dovevamo affrontare le elezioni politiche e le correnti divennero quattro. E degenerò il sistema anche nella logica del finanziamento pubblico ai partiti, del finanziamento della politica, del finanziamento... Ci fu una degenerazione e poi non porto anche altri aspetti che sono legati a che tante personalità venivano elette dai partiti proprio perché c'era la preferenza unica. E si facevano anche delle scelte e la responsabilità di un leader politico è anche prendere una personalità, votarla anche se non aveva le preferenze. Ma questo lo potevi fare in una logica di sistema più ampio, collettivo, collegiale, come il segretario vostro ha ricordato quando ha detto noi. Quindi questo è stato l'aspetto dell'inizio della crisi. E poi non c'è dubbio, oggi Enzo ne stiamo combinando tante, ma quando abbiamo, non noi, ma devo dire all'interno dei nostri schieramenti ce l'hanno centrosinistra e centrodestra, ma abolire il finanziamento pubblico dei partiti è una follia. Cioè la politica chi la deve fare? I ricchi o i ladri? Perché non è che ce n'è un altro in mezzo. O i ricchi o chi ruba. Allora io non so chi è il vostro segretario amministrativo, il vostro tesoriere, sarà sicuramente, ed è un galantuomo, mettiamola, è un galantuomo. Però io farei una battaglia per inserire il finanziamento pubblico dei partiti in forma nuova. Ecco, non darei soldi ai tesorieri, benché voi avviate un tesoriere che è un galantuomo. Ma facciamo come in Germania. In Germania il sistema pubblico, un'agenzia pubblica che distribuisce le risorse ai partiti con i servizi, le sedi, paga le utenze, ma è gestito da un sistema trasparente e pubblico, perché la democrazia ha un costo. Quanti voti prendi? Tante risorse hai per fare politica. Questi sono degli elementi che sono battaglie che dobbiamo tentare di fare insieme. Tu hai posto il tema della legge elettorale, non c'è dubbio che il proporzionale è una vecchia battaglia socialista, ma troviamo degli elementi sui quali alcune battaglie politiche possiamo farle insieme. Per ultima quella della riduzione dei parlamentari. Guardate, anche questa è antipolitica, è ovvio. Non perché i parlamentari non dovessero essere ridotti. Nell'ambito di un piano di una riforma costituzionale, che sia la prima, la seconda, ma anche quella di Renzi, per alcuni aspetti su questo aspetto reggeva. Allora tu puoi ridurre il numero dei parlamentari se riconfiguri. Certo, i parlamentari italiani sono troppi. Beh, rispetto alle democrazie occidentali siamo il paese che abbiamo più parlamentari. Quindi una riduzione, una logica di riforma era anche giusta, corretta. Ma com'è possibile averla accettata con quelle motivazioni? Anche in quel caso io ricordo un breve dibattito che ebbi con, non faccio il nome, con l'allora vice segretario nazionale del Partito Democratico, fui invitato dal Partito Democratico a un dibattito sulle riforme, come ospite, dissi la mia, però mi rivolsi a lui in quel momento, non perché il centrodestra non fosse responsabile, perché come sapete gran parte del centrodestra sulla riduzione dei parlamentari, almeno una parte, una gran parte aderì a prescindere, sia da destra che da sinistra. Io però dissi a lui in quel momento, perché in quel momento era il Partito Democratico che doveva decidere, perché era il Partito Democratico che era in condizioni di poter bloccare quel processo in Parlamento, perché era nel governo appunto con Cinque Stelle, e gli disse guarda fermate perché un grande partito, voi siete un grande partito, forse l'unico vero partito strutturato che è rimasto in Italia, siete un grande partito, non potete accettare una riduzione parlamentare con la logica che c'è un eccesso di rifiuto, perché è evidente che Cinque Stelle può essere il problema così, e visto che il rifiuto è troppo, dobbiamo ridurne un po'. Che io dissi, guarda caro amico, è detto quello che rimane, sempre il rifiuto è, se noi accettiamo questa logica è il suicidio della democrazia, ed è questo che è avvenuto, noi non siamo in grado di difendere più niente, come ci presentiamo quando siamo stati i primi, ne ho fatto una lunga serie di errori che abbiamo fatto e gran parte di questi che abbiamo subito. Quindi la politica si deve riprendere se fa delle battaglie insieme, e su questo penso sono il terreno assolutamente comune che potremo iniziare a fare delle scelte, poi non dobbiamo avere paura dello strumento referendario perché non si arriva al quorum, ci arriveremo, ci sono dei tentativi, facciamoli insieme perché anche se prendiamo il 5, il 6, il 7, il 10%, il 15, il 20 è un segnale di cambiamento, almeno discutiamo dell'argomento. Questo sul finanziamento pubblico per esempio può essere uno degli argomenti che può far riportare impopolare, si direbbe, ma se lo spieghiamo bene forse il cittadino capisce. Per concludere, piace sempre chiaramente il riferimento alla nostra storia, alla nostra identità, ma come configuriamo questo limite o i confini di una nuova identità oggi. E se la dobbiamo attualizzare, la cosa che più mi ha colpito è quando l'attuale Presidente del Consiglio si è definito un socialista liberale. E lo ha detto lui. Carlo Calenda recentemente in un tweet, per ricordare la scomparsa di un grande giornalista, Eugenio Scalfari, che è stato anche un grande nemico politico dei socialisti del periodo di Craxi, Craxiano, ha detto, saluto, un grande giornalista è un socialista liberale. Quindi questo termine ritorna e non dobbiamo scomodare né Prudò, né Mille, o Salvemini, o Rosselli, o per avvicinarsi, ricordiamo l'Espresso, il Vangelo Socialista, con Craxi e Pellicani, che però pubblicarono sull'Espresso quali erano appunto la dimensione di una sfida nel socialismo, che aveva superato chiaramente tutti i limiti ideologici, il marxismo si avviava una proiezione moderna. Ho visto qua Intini, ma Intini e Bettinza con l'Iblab. Quindi noi abbiamo avuto un'evoluzione nella quale questo termine, che è stato un termine, ha disegnato la storia dell'Ottocento e del Novecento, ma è sempre ben da chiarire che cosa vuol dire, perché bisogna sempre aggiungerci qualcosa al socialismo. Il mio maestro Gianni De Micheli si diceva, quando si parlava di riformismo, sì, ma se non ci metti socialismo quel riformismo non ha nessun senso. Vedete questo termine come si riprende, come si rianima, come lo vogliamo declinare noi per il futuro? Che cosa possiamo pensare a intendere? Il socialismo, diceva Rosseli, è libertà che si fa per la povera gente. Quale sensibilità c'è? È l'economia mista, è il mercato che deve esistere, la libertà individuale, libertà economica, che ci deve stare, ma deve essere regolato, pianificato, ma non gestito, che è una cosa diversa. Quale è il limite nel quale, Bobbio parlava appunto di socialismo liberale, dice è un socialismo di destra e il liberalsocialismo è un liberalismo di sinistra. Guardate come accompagna questa dimensione, che poi deve essere però gestione pratica, che non è solo la sfida delle riforme e del riformismo. Ecco, su questi argomenti, veramente concludo, c'è anche l'agire politico di oggi. Io su un tema, velocissimo, esprimo il mio distinguo, non di senso, anche delle parole di speranza, che è evidente che viene dalla storia politica, anche lui socialista, ma milita poi in un partito, diciamo, fortemente caratterizzato a sinistra. Io ho delle difficoltà a intendere in maniera semplicistica il messaggio del sistema pubblico, no? Perché dobbiamo intenderci che cosa vuol dire pubblico e quali sono le misure, le azioni, per esempio sulla sanità, come tu hai detto, fondamentale, sull'istruzione. Che cosa vuol dire pubblico? Significa statale? Significa diretta? Noi riteniamo di risolvere i problemi in Italia riaffidando le risorse e la fiducia solo al sistema diretto della sanità attuale? Non funzionerà mai. È anacronistico, sbaglieremo, non cureremo le persone, altro che pensare a una sanità universale. È il sistema pubblico che è generato dal mix straordinario di interesse pubblico e di servizio pubblico tra pubblico e privato. Ma questo vale nella sanità, vale nell'istruzione. A me convince più il bonus famiglia per l'istruzione che non pensare che esista solo la scuola statale e ci devono essere le regole vecchio stile per come andare a dire tuo figlio in quale scuola deve andare. Ecco, la scelta di libertà e l'integrazione sono fondamentali, qui è tutta la sfida del governo, che ne dobbiamo far probabilmente ancora di strada per capire questo. E concludo con un'osservazione un po' così forte, ma evidente che in questo schema dobbiamo ripensare al sistema delle autonomie, è proprio sulla sanità. ma anche le cose che ci diceva Speranza, che io a parte condivido per quanto riguarda l'azione nazionale, ma allora dobbiamo avere il coraggio e dobbiamo farlo prima o poi di togliere gran parte dei poteri della sanità alle regioni. Guardate, fanno danni inenarrabili. Ma il sistema tedesco, che è un sistema che ha il suo federalismo addirittura forte con i lender, non hanno una sanità regionalizzata di lender. I lender si occupano dell'organizzazione, poi c'è il sistema mutualistico nazionale, ma come pensa anche Speranza di dire che dobbiamo garantire la sanità a tutti quando questa, per esempio, in Calabria o in Campania non è garantita con la stessa efficienza rispetto alle regioni come la Lombardia o il Veneto. Queste cose dobbiamo dircele e questo è il sistema malato. È qui che è mancato il riformismo, è qui che è mancato il socialismo liberale. E quindi veramente buon lavoro a questa straordinaria comunità e alla nostra grande famiglia socialista.